Neppure il Movimento 5 Stelle chiude al dialogo sulla riforma della RAI, siamo apertissimi, dice Di Battista, a margine di un convegno organizzato dal Movimento alla Camera. Siamo apertissimi al dialogo. Occhio che qua temiamo che con la scusa di combattere l'utilizzazione dei partiti che c'è oggi e la RAI ha in mano ai partiti, Renzi voglia in pratica mettere un unico partito all'interno della RAI, il suo con la nomina diciamo governativa dell'amministratore delegato. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Noi vogliamo una RAI che sia un servizio pubblico fuori totalmente dalla politica. Roberto Fico ha detto che lui vuole essere l'ultimo presidente di Vigilanza RAI, è una dichiarazione potentissima.